cari amiche cari amici buongiorno vi auguro già da adesso una buona pasqua ci sentiremo alla fine di queste giornate quindi ci sentiremo dopo il lunedì ci sentiremo più avanti vi lascio qualche vi lascio il saluto vi lascio qualche chiacchiera oggi ve ne faccio due o tre le propongo due o tre allora intanto che cosa vi offro sto cosa che non sta dritto vedete vedete il mio orditoio a pioli un orditoio a pioli fatto in casa con pezzi di recupero che conta abbastanza a pioli perché ieri abbiamo fatto lezione a distanza di tessitura e abbiamo parlato come sull'ordito abbiamo parlato dell'ordito come si prepara la differenza fra l'orditoio a parete e un orditoio a blocchi tutte queste cosine qua che è utile sapere bene così lo vedete l'ha appoggiato alla parete bene invece qua vorrei che stesse un po fermo il tablet ma mi da poco retta che cosa vedete qua davanti beh dei giochini che mi sono fatta portare dalla camilla ora risposto un poco che magari non li vedete allora abbiamo due shopper sapete che io sono una collezionista di shopper sono più che una collezionista una catastatrice anche no sapete quante mi servono tutte mi piacciono mi piacciono i temi mi piacciono i colori sono utili perché ci si ripongono cose ci si separano progetti filati ecco i progetti sono già quando vedete i colori avete preso un pattern avete preso un altro poi un'altra ancora avete già tutti filati qualcosa avete comprato qualcosa avete messo insieme recuperato dai vostri stash dalle nostre scorte dalle nostre riserve aure ecco bene per me le shopper sono un rifugio ecco ideale metto dentro poi di quelle cartina in titano spruzzo in giro di tutto guardate di tutto e di più nella boldo che mi circonda e ripongo e metto poi sparisce ecco le shopper che sono tanto utili ma davvero morbide si piegano andiamo a fare la spesa bene sono due diverse una la devo aggeggiare per me una la devo aggeggiare per mia figlia ed è quella lilla lilla camilla camilla lilla lilla tra l'altro uno dei diminutivi che si usa in casa per la mia bambina riferendosi a lei alla cami camilla poi è stata chiamata caiba e come caiba una cugina la chia caiba e l'altro aspettate che c'era pinkia che poi pinkia da dove l'aveva preso pinkia la cuginetta più di sei mesi più grande che poi pink è stato è stato ma adesso adesso è più il lilla in effetti ma c'è stato lungo lunghissimo periodo rosa in camilla tutto doveva essere rosa cara poi è passato e poi è tornato poi è arrivato il beige noiosissimi i basici neutri invece poi sono tornati a fiorire i colori per fortuna adesso siamo tutto lilla tutto ripartito con colore da quel tavolinetto con vassoio tavolino da esterno tra l'altro immogano laccato che abbiamo insomma che si è vista arrivare come dono la camilla quando siamo andati in visita alla allo showroom di etimo in vitorchiano etimo cercate etimo con la h dopo la t e bello c'è anche l'outlet dove mi hanno le ragazze mi hanno regalato la borsa la borsa porta lavoro che io adomavo in quanto è un po pesantina devo dire però mi piace bella rigida così con tutte quelle tasche intorno la taschina con la cerniera dietro che sta aperta e ha queste tracolle robuste ecco che comoda sia a braccio che a spalla e dove dentro ci posso mettere le cartellette i manuali il mio lavoro e che poi era corredata di un sacchetto bellissimo in tinta fatto a busta a busta da lì la patta con l'automatico il bottoncino già non me lo ricordo più perché dentro ovviamente c'è già un progetto mi piace che viene distribuita anche almeno l'anno scorso al centro botanico mutan allora sono fiorite le peonia io tengo d'occhio un giardino qua in paese e in un attimo aveva dei mimina e le peonie sono fiorite quindi sono fiorite anche al centro botanico mutan vi vi aggiorno per pasqua ecco una comunicazione di pasqua sarà la data del prossimo incontro del knit cafe knit cafe non sono corsi knit cafe bene però sapete che propongo sempre qualcosa cerco di passarvi un po della delle mie balsane idee della mia esperienza insomma poi una bella condivisione di tutte le esperienze c'è sempre tanto da dire da confrontarsi insomma se ne viene a casa sempre belli più ricchi e anche soddisfatti vedo e con una gran voglia di ritrovarsi bene allora il prossimo incontro quello di aprile sarà al centro botanico mutan ognuno si paga la sua entrata la propria consumazione se la vuole se chi vuol prenotarsi in pranzo se lo prenota sarà di sabato ve lo dico subito sarà di sabato perché il bistro e il bar sono aperti solo nei giorni nel fine settimana e nei festivi quindi il 25 primo maggio sarà allora sarà già aperto messa e mi sa che con domani aprono e per pasqua sì il centro botanico mutan è aperto sarà aperto una pasqua diversa perché no certo il tempo è matto però ci sono dei tavoli esterni carini carini tutto bello colorato stile etimo e con degli ombrelloni quindi chi volesse pranzare fuori noi l'anno scorso tutto sotto la pensilina non eravamo né dentro e eravamo sì fuori ma non ci siamo bagnate perché volevamo stare all'aperto ma veniva giù un'acqua come non si sa siamo riusciti a fare la visita al giardino anche tra una goccia e l'altra e ci sono delle belle panchine in giro per il il vivaio è un vivaio un po diverso avete dei bei pendii coperte da peonie poi ci sono le fioriture delle iris ci sono le rose ci sono i glicini belli ci sono due tunnel di glicini ci sono varie aree sosta e poi appunto questo bistro con una sala anche interna un ristorante non banale tra l'altro quindi conviene prenotare assolutamente sì non andate all'avventura che non rischiate grosso e invece da un colpo di telefono cercate centro botanico mutan ma perché non ci metti il link perché ve lo discordo di qua quando finisco ma sono già bello che scurda di mettervi il link acqua sotto quindi io ve lo dico cercatevi torchiano frazione pallone c'è un enorme parcheggio erboso terroso gratis gratuito guarda non si paga è gratuito quindi non avete il pensiero della macchina parcheggiate andate fatevi fate il giro potete acquistare le vostre belle piante ed altre cose che mettono a disposizione nella zona biglietteria e un tavolo spartano insomma ci sono dei prodotti ci sono dei cosmetici credo di delle profumazioni per la casa sì perché hanno prodotto cosmetici con fito estratti perché all'interno una meravigliosa villa è stata anche diciamo sede di una spa mica da poco e poi purtroppo l'hanno chiusa però insomma ci sono ancora delle belle produzioni insomma dal laboratorio quindi potete trovare qualche cosina però il vivaio sì vi scegliete le vostre peonie meravigliose che bella storia la peonia è un bel percorso c'è una bella cappelletta insomma non è un vivario un vero un bel paesaggio poi vitorchiano potete allungare se non conoscete il centro storico di vitorchiano andare a conoscere anche la statua muai e poi cosa potete fare a potete andare in sacco di posti potete andare a vitorchiano potete andare a bagnaia vedere un po se bilalante sarà aperta pasqua non lo so potete entrare nel borgo dentro le mura del borgo insomma di bagnaio potete andare alla frazione della quercia potete andare a viterbo potete andare in un sacco di bei posti potete venire dalle mie parti andare a visitare il il paese delle fiabe questo paesino che ospita dei murales meravigliosi uno stile bellissimo una bella storia quella dei murales perché molti dei personaggi ecco sono stati ispirati diciamo nella fisionomia da persone reali bambini di pomezia c'è tutta la storia sui bambini di pomezia ritratti lì alcuni bambini di pomezia o di torvagliari come cosa c'è più è una bella un bello stile una bella storia sono tantissimi e il paesino e ciccinino un paesino molto se c'è una bella chiesetta è bello il paesaggio da lì potete vedere anche il borgo tondo tondo di ora ve lo dico è del non mi viene in mente aspettate che ci arrivo ci arrivo ci arrivo ma adesso mi viene in mente san martino al cilino che potete andare anche a visitare san martino al cilino che è bellissimo piccino piccino ma è particolare come è costruito quel paese le mura poi attaccate le mura poi dalle mura interne sono date queste casette a schiera quindi le mura in realtà sono le spalle insomma di queste casette ma vi volevo invece parlare di sant'angelo ci siamo sant'angelo di rocca alvece quindi da sant'angelo vedete il borgo di rocca alvece sta lì e un attimo ci si arriva rocca alvece rocca alvece non ha nessuna insomma ha una struttura ricettiva che è il castello costa gutti non ci sono attività commerciali ma c'è è delizioso da girarsi ci sono un sacco di affari se cercate casini appartamentini per risiedervi ma anche così per per le vacanze è proprio carino è bellino è piccino se cari carino guardate carino veramente carino ma non c'è niente prendete la macchina popolo degli autobus vi spostate e andate scendete giù a grotte santo stefano e fate la spesa comunque a sant'angelo non mancano i negozi insomma c'è un negozio c'è un circolo bar il primo che era stato aperto c'è un negozio di souvenir ci c'è una pasticceria pizzeria taglio insomma ma è carino poi è bello il paesaggio è carino poi nel percorso da fare andarsi a scovare il murale veramente carino bene quindi una buona pasqua voi lavoretti da portarvi indietro che non pesi non ne avete cantieri io queste cose qua da terminare da fare chi è che mi ha scritto ok e c'è stato il tempo il temporale a parte anche quello c'è stato il terremoto in alta italia mannaggia quindi mi arrivavano notizie allora lavoretti il giorno di pasqua anche a pasqua ma perché se non fate non fate una gita non andate a fare un picnic ma se piove se piove portatevelo dietro andate dove c'è il profumo di braccia dove vi arrostiscono le verdurelle dove si trovano i legumi buoni io ho l'umbria qua di fronte a chi mi chiama io la amo l'umbria di fronte mi piace anche la tuscia e ve lo dico tutti i giorni ma è tutta un'altra natura poi ieri che mi sono andata a fare un giro in internet e rivedermi un po della Chianti che belle le campagne che bella che è la nostra Italia è bella e quindi anche se andate in luca anche se vi infilate in un bar guardate c'ho da andare lontano piove la macchina il traffo va bene infilati da qualche parte portati un lavoretto togliti da casa cerca un albero una pianta che se piove va bene mettiti a riparo poi torna a guardare un po di fiori un po di natura passeggia e portati l'ombrello uno stivale di gomma con calze e scarpe comode pur bisogna andare e fai una bella passeggiata che male non ti fa portatelo un lavoretto che è bello anche due minuti che tiri fuori un gomitolino lì colorato e fai qualcosina io devo fare queste cose qua allora questo è un cuscino è la fodera di un cuscino sono tutti oggetti di Tiger è una bella teletta fitta fitta questa è tinta in stampa questo è il cuscino vedete qua e cosa ci si può fare ma l'avete visti quelle belle formelle grandi realizzate con l'uncinetto dello 065 uno due tre messe qua e là oppure ricamate piccoli ricami oppure delle belle filze dei punti di camo a seguire le righe qua e là una formella appiccicata lì appiccicata che tra l'altro ecco vedete che il retro è in tinta unita eccolo qua quindi sul retro fate un altro ricamo io ce l'ho ovviamente ma non ve li posso dire adesso è un bel cuscino tra l'altro sono 50 per 50 centimetri eh ma le fodere costano l'orenza le fodere l'imbuttitura bene ma non ce l'avete in giro per casa delle dei play delle copertine di pile se ce l'avete ecco che sono sempre lì che girano quando non servono bene come porta pigiami infilatele qua dentro che stanno imbottiti stanno puliti ed ecco fatto io il piumone ad esempio della stanza qua sotto della dormeuse dove lo ripongo ho una fodera immensa che ho tinto come gli altri cuscini lo sbatto lì ecco che ho un super cuscinone abbiano imbottito soffice che diventa un bellissimo poggia schiena ecco le fodere quando non sapete avete avete delle menate che vi diciamo dei vecchi dei vecchi golf ma sbatteteli lì dentro con l'antitarme mi raccomando quindi ecco qua un ricamino un ricamino tanti ricamini tante piccole granni che riprendono i colori sottostanti perché no eh ho anche grandi granni messe qua e là o altre formelle o dei pizzetti o dei bordini ed uncinetto insomma diventa il vostro sampler questo questo questa fodera ma piace ma piace ma veramente tanto ma piace questa fodera poi che cosa abbiamo qua abbiamo due shopper allora queste shopper invece sono tinte in filo c'è una differenza fra la tintura in filo e la tintura in stampa assolutamente sì infatti quando vedete delle belle camicie a quadretti o a righe l'accento su cosa viene messo sul fatto che se lo sono state ecco che magari il tessuto le le camicie sono state tinte in filo quindi vuol dire che il tessuto è stato operato realizzato con i fili già colorati a creare poi nella tessitura il motivo in questo caso sono questi quadretti simili perché simili perché il quadretto visci è lo vedete fatto così ma più piccolo va bene il modello non è identico qui abbiamo il fondo azzurro questo è per camilla con questa bella etichettone in in tessuto di tiger se non vi piace se ne avete di di campioni che vi girano per casa tacchete la volete coprire copritela fate con una una delle delle formelle che vi girano per casa o dei campioni che qua possono star bene vi realizzate una tasca esterna ve la potete realizzare anche interna e vi faccio vedere questo il modello questo qua è quello più largo che lungo come direbbe mio padre teccio larga che lunga me l'ho detto tante volte ma non era vero poi in vecchiaia sì che soncio larga che lunga però ho una bella tracollina vedete qua abbastanza lunga da spalla ma che anche al braccio non va a dar fastidio gli angoli sono smussati le dimensioni ve le vado a dire no non ve le dico perché non c'ho l'etichetta me l'ha portata così la mia bambina senza etichetta aspettate che are mio dentro cucita è ancora cucita però vedete vengono cucita perché almeno stanno in ordine quando le appendono no non ce l'ho l'etichetta non ve la posso dire la misura di questa però è bella grandina perché non ho il metro portata di mano o questa è più larga vedete ciù larga che lunga è bella larghetta vediamo no non apro la fodera del cuscino era grande le volete con la culis questa non ha la culis vedete non ha la chiusura super la potete fare santa pace quanti avanzi di filo avete ecco se volete fare un bel esercizio con i circolari ecco vi fate una bella san bella coi circolari pensate un po come farvela magari ecco semplicemente a maglia rasata che palle ma smetela ecco a un certo punto fate un bel punto dente di gatto piegate cucite fate passare un cordoncino sapete fare il cordoncino io le insegno alle mie come si fa il cordoncino perché torno utilissimo ecco un bel cordoncino l'andate a cucire per cucire avete da seguire la cucitura della del margine la cucite dall'interno è tutto 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 fate in modo poi di coprire la cucitura se è venuta non troppo benissimo magari con una catenella o ci ricamate sopra insomma prima cucite e poi andate a vedere quale danno avete da rimediare ed ecco che vi potete da soli senza andare a comprare tessuti senza ve la fate con la maglia o ad uncinetto una ciambella poi dove mettete la culisse e chiudete la parte la parte superiore se no ve la portate a shopper dipende dalle vostre esigenze mi diverte sta cosa lo dico sempre ma non lo faccio mai la devo fare una shopper così questa invece è la mia la mia invece è ci lunga che larga eccola qua ecco la mia è un po più stretta un bel po più stretta un bel po è un bel po un bel po che tanto a toccarle sembra pure diverse ma questa mi sa più molla si è a voglia che è più è più stretta di tanto così che video che vi faccio è più stretta è alta quanto lorenza ora vediamo è più lunga infatti è ci lunga che larga la mia la tracollina è fatta così a toccarla si sono i tessuti sembrano diversi ma tra l'altro qui avremo anche le misure ve le dico subito le misure che cos'è cento per cento cotone tra l'altro ce la dice la misura lavabile a 30 gradi non vedo le misure voi le vedete io non le vedo ea un po di qua manco ma è strano eppure ci dovrebbero essere ma non la vedo non la vedo non c'è pazienza non avete le misure le facciamo a meno ok anche questa ha il distintivo all'etichettona di tiger non vi piace anche un po centrata tra l'altro e copritela copritela come la coprite o fate un campione recuperate un campione che vi gira per casa di un colore che a voi potrebbe piacere qua ed ecco fatto ecco fatto se siete brave vi cuscite una cerniera se avete la necessità di avere delle shopper chiusa altrimenti lasciatela così a cussì questa è mia è mia e la ricamerò tra l'altro ma sapete che mi sembra strano che questa sia tinta in stampa e questo dei dubbi questo dei dubbi che sia tinta in filo non la capisco non ci vedo perché vedo delle degli effetti strani che potrebbe essere colpifero tinta in filo ma vabbè sono belle uguali no questa mi sa di no bocca strana non l'altra sì ma questa no non ho per questa cosa che vedo qua vabbè comunque anche qui può essere divertente farla trasformarla nella nostra fodera in controluce cioè fodera esterna e lasciarla proprio così e poi realizzare un qualcosa un filet o che va proprio a seguire i motivi sarebbe carino oppure applicate delle delle formelle che avete fate un po quello che vi pare oppure portate come vi ho consigliato più volte ecco portate la parte esterna la mettete la scala rivoltate ve la fate diventare fodera interna e visto che l'esterno vero c'è questo bordo ma è a non è credo lenza ma sei scema e sì come si fa a vedere se tinta in stampa oppure no ecco quello che vedete sul dritto lo vedete anche sul rovescio quindi questa è tinta in stampa dolenza vediamo un po quell'altra perché sei una tonta è ma io mica mi vergogno mica lo sto a cancellare è un po anche queste tinta in stampa allora guardate questa è fatta benissimo ma beh a che bellino che qua ad esempio fa allora in una riga si vede ad un certo punto un effetto chevron della tintura non so se vi riuscite a vederlo ma la mette a fuoco sto coso mica tanto non mette tanto a fuoco allora tor da me anche lì le camicie avete il decoro esterno avete quadrette di ghina vedete sono sull'esterno sul dritto è tinta in stampa questa è fatta veramente bene tra l'altro mentre se vedete il rovescio tinta unità vuol dire appunto è una stampa non è tinta in filo quando invece lo vedete lo stesso risultato identico davanti e all'esterno e all'interno di una maglietta che mostra dei quadretti delle rigide una camicia un vestito ecco quando vedete l'interno monocromatico all'esterno tinta in stampa la scema della lorenza eccola qua sono tinta in stampa va bene o volete il quadrettino all'interno perché per l'esterno avete già come realizzare la vostra borsa vi serviva semplicemente una fodera eccola lì se lo rivoltate all'esterno fate la vostra borsa e questo diventa la vostra fodera non ci volevo stamattina anche se non mi avessero fatta no com'è che si dice vabbè non ve lo dico bene allora questo ve l'ho detto i lavoretti per pasqua vi portate dietro da cucire delle formelle oppure vi divertite a ricamare sopra i quadretti ma anche delle silhouette io ce l'ho in mente sapete cosa voglio fare quella della camilla la silhouette di un bel gatto ecco ho trovato un bel disegno mi serve la carta a carbone così trasferisco una volta c'erano le usate le matite trasferibili che si passa direttamente sul tessuto si stira sulla carta com'è che funzionava non me lo ricordo più lo usavo quando facevo il patchwork oh mamma mia la memoria e ci sono anche quei colori assailabili che passate si svaniscono però fate definite quindi questo supporterà la silhouette di un gatto per la mia bambina ora vi saluto e poi turno che si si fa sale la mia bambina ora vi saluto